Mi è piaciuto molto questo progetto perché ci ha consentito di fare un focus sulla dimensione dell'inclusione della disabilità e di come in realtà a volte quelli che si disabilitano di più sono le persone cosiddette senza certificato di disabilità. Questo è veramente un punto molto chiave. Da anni lavoro nell'ambito dell'inclusione e sul tema dei disabili e non mi piace parlare di disabilità ma di diverse abilità perché penso che comunque sia un tema dove la persona è quella che fa la differenza soprattutto in un'azienda come la nostra che fa ricerca e quindi si occupa di dare soluzioni per cui trovare delle soluzioni scientifiche e non e quello che abbiamo visto e valutato in questo percorso di formazione che ha coinvolto un paio di gruppi dell'azienda molto in prima linea sul cambiamento dove c'erano due persone disabili è che in realtà la vera disabilità a volte è la modalità in cui noi ci disabilitiamo rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità, le nostre capacità e le nostre abilità. Quindi questa è stata una volta in più in cui i nostri coach di IAL all'interno di questo progetto ci hanno accompagnato a prendere consapevolezza di come noi come persone diventando consapevoli di chi siamo e di quali sono le nostre caratteristiche possiamo in realtà comunque portare un valore sia che abbiamo un certificato di disabilità sia che non ce l'abbiamo.